Buonasera, poco dopo le 18 un violento temporale accompagnato da forti raffiche di vento e grandinate ha investito le aree di Palmanova, Torviscosa, Fiumicello, San Canziano di Zonzo e Cormons. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per degli alberi caduti a Santa Maria la Longa. Temporali hanno colpito anche Lignano, Grado e Trieste e un fulmine si è abbattuto sulla centrale del 112 di Palmanova. Il servizio. Nel pomeriggio alle 18 e 21 durante un temporale nella zona di Palmanova un fulmine ha colpito l'edificio dove sono collocate le sale operative del 112, dell'emergenza sanitaria e della protezione civile. I meccanismi di protezione elettrica hanno protetto le apparecchiature telefoniche e informatiche che non hanno riscontrato danni. C'è stata però una interruzione di corrente che ha coinvolto tutti i computer dell'ultimo piano. Le telefonate sono state prontamente deviate sulla centrale di Brescia. Dopo circa 30 minuti, una volta completati i controlli, le centrali sono tornate alla normale operatività. Non c'è stata nessuna interruzione del servizio.